Musica Di nuovo spazio all'informazione di Unica TV, questo è il telegiornale di Lecco, bentrovati. Travolge i due ciclisti alla rotonda di Pagnano, frazione di Merate e non si ferma a soccorrerli. Nei guai il condicente di una Fiat Punto Grigia, la polizia locale della città Brianzola è già sulle sue tracce. Due ragazzi si filmano mentre prendono a sassate una nutria albione, polemiche per un video diffuso sui social. Le associazioni animaliste pronte a denunciare gli autori del controverso filmato. La neve imbianca le vette delle montagne lecchesi e si chiude il rito della transumazza. L'ultimo greggio di pecore rimasto in Alpeggio ha attraversato domenica mattina la città, un nuovo spettacolo d'altri tempi. Ha travolto due ciclisti e non si è fermato a prestare soccorso. È accaduto questa mattina a Merate, alla rotonda di Pagnano. Un ferito è stato elitrasportato all'ospedale di Bergamo in codice giallo. Solo un grande spavento per l'altro ciclista. L'uomo al volante dell'utilitaria, una Fiat Punto Grigia, non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Gli agenti della polizia locale di Merate avrebbero già individuato l'automobilista pirata. E adesso vediamo insieme i servizi del nostro telegiornale. La sanità lecchese è ancora una volta al centro di un'interrogazione dopo quella presentata dal senatore di Alleanza Verdi e Sinistra, Tino Magno. Ora il documento deputato al Pirellone nelle scorse ore dal consigliere regionale dello stesso schieramento, Onorio Rosati. Nel mirino in questo caso all'ospedale Alessandro Manzoni. Abbiamo riscontrato come sia alto il numero di dimissioni anche tra i dirigenti e molti di questi non sono stati più sostituiti. In un contesto regionale in cui si tende a privilegiare la sanità privata alla pubblica, abbiamo presentato come Alleanza Verdi e Sinistra una interrogazione dettagliata attraverso il nostro consigliere regionale Onorio Rosati per chiedere all'assessore Bertolaso come intende risolvere i problemi evidenziati al manzone di Lecco. Ha dichiarato Milva Caglio di Alleanza Verdi e Sinistra a Lecco, che snocciola i numeri. Dal 2019 il personale è stato sorraccaricato di lavoro, accumulando ad oggi per ogni dipendente un numero esorbitante di ore straordinarie e giornate di ferie non godute, rinunciando anche alle proprie giornate di riposo e mettendo quindi medici e infermieri sotto stress. Negli ultimi 12 mesi, nei tre presidi di Lecco, Merata e Bellano, si sono dimessi 300 dipendenti di cui all'ospedale Manzoni si sono dimessi dal reparto di oculistica, 4 specialisti su 5, tra cui l'ex primario, e hanno fatto altrettante primarie che operavano nei reparti di neurochirurgia e medicina preventiva. Se ne sono andati 27 anestesisti e 14 psichiatri. Diverse dirigenze sono coperte da personale facente funzione. Non c'è inoltre alcun responsabile che si occupi dei territori e di quello che erano gli ex consultori. Nel mirino è un calemplamento del pronto soccorso del Manzoni, doveva essere concluso entro agosto 2022, ma i lavori sono ancora in corso. Nel documento, il consigliere regionale Onorio Rosati interroga il presidente della Giunta e l'assessore competente per sapere quale iniziative si intende a mettere in atto per fermare le moragie di dimissioni e risolvere le gravi problematiche. Intanto però, martedì a Lecco, saranno presentati il nuovo direttore della struttura complessa di cardiologia, Andrea Farina, e il nuovo direttore della struttura complessa di oculistica della SST di Lecco, Pierfilippo Sabella. Dopo aver superato il livello massimo mai registrato, è l'ario da domenica e è tornato ad abbassarsi. La settimana si prospetta però instabile, alternando giornate di sole con altre precipitazioni e l'attenzione resta alta. È con le piogge dello scorso sabato che il lago ha superato di 4 cm il massimo storico in questo periodo dell'anno, registrato solo nel 1963. Con 167 cm sopra lo zero idrometrico, il livello ha sfiorato il quadruplo rispetto alla media, che per il mese di novembre è intorno ai 44 cm. La giornata limpida e soleggiata di domenica ha invertito la tendenza e l'ario ha iniziato a scendere. Anche oggi è stato registrato un ulteriore abbassamento e al momento si assessa sui 154 cm sopra lo zero idrometrico. La settimana appena iniziata però alternerà giornate di sole con ore di pioggia. A oggi si prevede che le precipitazioni in arrivo non superino i 3 mm, ma il monitoraggio resta costante. Nelle ultime settimane infatti il meteo, pur non avendo provocato gravi danni, ha causato diversi disagi sul territorio, come l'esondazione dell'Adda, su alcuni tratti della ciclabile a Olginate, la fuoriscita dagli argini del lago di Annone che ha impedito il transito sullo svincolo della Super 36, e i vigili del fuoco sono stati attivi su tutta la provincia per allagamenti, mentre le sponde dell'ario per ora hanno tenuto. Le associazioni animaliste hanno già annunciato l'intenzione di presentare denuncia contro i gnoti al Tribunale dei Minori di Milano competente per il territorio lecchese. Fa discutere il video girato nelle scorse settimane nella zona dove il torrente Bione si mette nel lago, a poca distanza dalla piazzola di atterraggio degli elicotteri del soccorso alpino. Dura una ventina di secondi e vede i protagonisti due ragazzi che prendono a sassato una nutria, il cappuccio in testa a coprire parzialmente il volto, la grossa pietra in mano, le risate quando la scagliano con forza contro l'animale che rimane tramortito tra il muro e l'acqua, si contorce, prova a scappare. A rilanciare il filmato, realizzato evidentemente da qualche complice dei due adolescenti, convinto di incassare like e subissato invece dai commenti di sconcerto, la pagina Welcome to Favelas su Telegram, indignazione e parole di condanna, la reazione comune. Orrora Lecco, questa è violenza gratuita, altro che disagio giovanile, spero che questi stupidi siano obbligati a svolgere servizi sociali, scrive sui social il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giacomo Zamperini. Così il volontario dell'EMPA, Ente Nazionale di Protezione degli Animali, di Merate. Qualcuno li riconosce? Chiunque abbia informazioni utili per trovare queste due persone, ci contatti, l'appello lanciato su Facebook. Come EMPA, anche volontari dell'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, annunciano una denuncia contro i gnoti al Tribunale dei Minori. È importante risalire agli autori, che poi hanno postato il video in rete, e punire quest'atto di violenza gratuita contro una nutria, solo per raccogliere like, senza rendersi conto che anche la vita di un animale ha valore. Mentre continuano i disagi del trasporto ferroviario, cresce lo stipendio dell'amministratore delegato. I DEM attaccano Regione Lombardia sulla gestione di Trenord. L'assessore ai trasporti, Franco Lucente, ribatte polemiche strumentali. Le opposizioni sono a corto di argomenti. Il commento dei consiglieri regionali del Partito Democratico Gian Mario Fragomeli e Simone Negri arriva dopo la commissione trasporti che si è riunita giovedì 2 novembre al Pirellone, a seguito di un'interrogazione DEM che chiedeva conto alla Giunta dell'aumento di stipendio di Marco Piuri, direttore generale di Ferrovie Nord Milano e amministratore delegato di Trenord. La Regione attaccano i consiglieri del PD non ha detto una parola sul fatto che lo stipendio di Piuri sia aumentato del 20%, arrivando a 627 mila euro, e non ha messo in discussione la giustificazione dell'aumento basata solo su indicatori finanziari e non di qualità del servizio. Che Trenord non funzioni, proseguono evidenti a tutti. Oltre ai soliti ritardi e soppressioni, persino l'applicazione qualche giorno fa è andata in tilt. Non tarda la risposta di Lucente. I compensi deliberati dal CDA di Trenord sono totalmente riversati a FNM, la società quotata che si occupa dell'ottimizzazione di trasporti in relazione alla sostenibilità ambientale. La cifra, prosegue l'assessore, è coerente con le dimensioni del business e le responsabilità connesse. Per quanto concerne le performance, Lucente afferma che il servizio sta migliorando grazie all'arrivo di 200 nuovi treni e al netto dei limiti infrastrutturali non ascrivibili a Trenord, la puntualità arriva al 90-92%. Ai DEM, che si domandano chi governi davvero i trasporti tra Giunta e Trenord con FNM, l'assessore risponde che Regione Lombardia si affida a manager di esperienza che progettano a 360 gradi il sistema della mobilità regionale. Terza trasferta consecutiva per il Lecco che vuole confermarsi a Reggio Emilia dopo le grandi vittorie di Palermo e Pisa. Al città del tricolore un vero esodo, da Lecco più di 800 e i tifosi sono in curva ospiti. Bonazzoli e Malgrati non cambiano in campo gli stessi 11 di Palermo. Reggiana sconfitta in settimana in Coppa Italia dal Genua, ma reduce da due successi di fila in campionato. Punizione dalla tre quarti di Cabasci, Malgrati inciampa su Celia che non arriva sul pallone, Rozzio di testa, porta vuota, Caporale ci mette il piede e devia sul palo. Calcio d'angolo per i padroni di casa, sul primo palo arriva Antiste e la palla in rete, vantaggio della Reggiana a segno del francese di proprietà del Sassuolo. Sembra mettersi male per i blu celesti che nel primo tempo faticano a trovare le misure. A inizio di presa, chance importante per la Reggiana, Malgrati smanaccia il tiro cross di Pieragnolo, poi Portanova appoggia per Gima, il suo tiro è alto, ma il Lecco prende coraggio e un dominio bruce l'este per almeno mezz'ora. Buso trova nello spazio Ionita che crossa sul secondo palo, tiro di crociata rispinto da Rozzio, Lepore calcia al centro, arriva Buso che appoggia in rete, pareggio meritatissimo dell'Elecco, quinto assist in campionato per Lepore, primo in bui in questa particolare classifica. Nel finale Reggiana ancora pericolosa, diagonale di Portanova, il palo salva Melgrati, poi grande scambio, già manca Cernigoi, grande recupero dell'ex della partita Guglielmotti che in scivolata blocca la conclusione a botta sicura di Cernigoi. Nel recupero protesta della Reggiana per un contatto in area, ma non c'è nulla sia per l'arbitro che per il VAR. Finisce così, ottimo punto per il Lecco. Mercoledì a Rigamonticeppi, arriva lo Spezia. Oggi si portano a casa. Dopo un bel po' si scende. Domenica 5 novembre, ore 7, l'ultimo greggio di pecore attraversa l'Ecco, lasciandosi alle spalle le montagne valsassinesi, oggi imbiancate dalle recenti nevicate. Dopo sette mesi in quota si torna a casa in pianura. La stagione degli alpeggi è terminata. Transumancia 2023, il ritorno! C'è un po' di tristezza? Sì, c'è un po' di tristezza perché si va verso la brutta stagione. E con l'arrivo della prima neve che si torna a casa, oggi è domenica 5 novembre? Sì, sì, le tempistiche ci sono. Dopo è arrivato il brutto tempo, per il benessere dell'animale è meglio scendere in pianura. Questo è l'ultimo greggio che scende? Sì, sì, siamo gli ultimi. Ci spostiamo verso il comune di Galbiate, dove soggiorniamo un paio di giorni per farle riposare, per poi rincominciare la transumanza verso la bassa Brianza. Si sale, si scende. Quanti capi avete oggi da portare a casa? 1.200. Hanno voglia di tornare a casa? Meno male, anche loro hanno voglia di tornare al sicuro. Com'è andata la stagione? C'è un po' di tristezza quando finisce? E' sempre un po' malinconico scendere, però d'altronde sui pascoli montani ormai fa freddo, scende la neve, è ora di tornare in pianura. Oggi sto dietro, così almeno se qua le pecore si fermano vanno da un'altra parte e le spingiamo in giù. Ma tu dove hai imparato? Dal papà su in montagna. Qual è l'importanza della transumanza e degli animali in montagna? Principalmente riescono a fare quello che si faceva in passato, cioè manutenzione del territorio, sia per la gestione delle aree protette, quindi degli habitat, che sono molto importanti, sia come prevenzione degli incendi boschivi, tema sul quale la comunità montana è molto attenta. Ma non ci sono solo pecore oggi? Eh no, anche capre e asini. Ci vediamo a primavera, ciao! Nell'ambito delle celebrazioni del 4 novembre il Comune di Malgrati ha inaugurato il cippo dedicato al milite ignoto. La cerimonia, promossa dall'amministrazione comunale, su invito della delegazione lecchese dell'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, ha visto la partecipazione degli alunni della scuola primaria del Paese. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, l'appuntamento è alla prossima. A tutti voi un buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie. 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 Grazie.